La nuova crisi politica in Libia nasce a fine agosto, siamo al 27 agosto, quando una milizia stanziata all'esterno della capitale Tripoli decide di muovere contro la città per scalzare un cartello di milizie che detiene il vero potere all'interno di Tripoli. È importante sottolineare come questa crisi ci abbia fatto capire come non siano tanto i politici che sono riconosciuti dall'Occidente e in particolare dall'Italia a detenere il reale, l'autentico controllo della città di Tripoli, bensì è questo appunto cartello di milizie che si spartisce le risorse che provengono anche dalle agenzie dell'ONU e dalla comunità internazionale, si spartisce la ricchezza, quindi inizialmente è sembrato essere un regolamento di conti fra milizie rivali esterne e interne alle strutture di potere e alle strutture fisiche della città di Tripoli. Questa milizia, la settima brigata, è stata però accusata dal governo Serrage, che è appunto il governo sostenuto da queste milizie a Tripoli, di essere foraggiata da attori esterni, quindi di non essere semplicemente mosse da un intento redistributivo del potere economico, ma di essere una testa di ponte per causare una crisi di governo, per rovesciare il governo Serrage. Le figure vicine al governo hanno in particolare accusato una figura politica sostenuta dal generale Haftar, che è l'uomo forte della cirenaica, un ex gheddafiano che ha mantenuto il potere nell'oriente del paese e in particolare le accuse si rivolgono anche verso alcuni paesi europei e medio orientali che hanno sostenuto il generale Haftar in passato e continuano a offrirgli sostegno militare, la Francia e gli Emirati Arabi Uniti. È importante però sottolineare come queste fonti siano monodirezionali, cioè queste informazioni le riceviamo solamente dalla parte che si sente attaccata e che ovviamente ha tutto l'interesse nel magnificare la minaccia e nel ampliare la minaccia con cui si confronta. La missione libica delle Nazioni Unite ha radunato attorno a un tavolo i contendenti di questa partita, ossia le milizie che si sono spartite, che vorrebbero spartirsi la torta e è riuscita ad arrivare a un cessate il fuoco, cessate il fuoco che tuttavia non è stato propiziato in sé dall'intervento dell'ONU, quanto più che altro dall'intervento delle milizie di Misurata, che sono fra gli attori militari più potenti di ciò che resta della Libia, che sono molto vicine a Serraj e anche molto vicine all'Italia. Non dimentichiamo che proprio a Misurata è schierato un contingente militare italiano che svolge una missione medica. Quindi questo accordo è stato propiziato più che altro da un'imposizione della forza da parte di un attore esterno. Quindi dubito fortemente che questo accordo in quanto tale possa reggere, soprattutto perché è molto fragile. In questo momento le operazioni, gli scontri che si sono svolti tra il 27 agosto e i giorni scorsi hanno dimostrato che chi vuole partecipare alla ridistribuzione della torta basta che prenda il fucile e spari. Quindi assai difficilmente si arriverà a una stabilizzazione in sé, anche perché spesso quando l'ONU entra in gioco, diciamo che fossilizza la situazione esistente, ma non garantisce la sua stabilità nel futuro. Futuro che sembra contrassegnato da un forte dibattito. Entro il 16 settembre bisogna arrivare a un accordo sulle modifiche legali e costituzionali per svolgere delle eventuali elezioni per il 10 dicembre. Elezioni che sono fortemente volute dalla Francia, non dall'Italia, che invece le ritiene ampiamente immature, perché appunto non è la questione della stabilità politica giocata attorno alla politica in sé, ma bisogna trovare un modo affinché queste milizie inizino a deporre le armi e si spartiscano il controllo del potere in Libia. Una nuova crisi, o meglio una recrudescenza della crisi della Libia, può avere immediate conseguenze anche di tipo strategico per l'Europa. La Libia è una piattaforma fondamentale per esercitare influenza su tutto ciò che dell'Africa le sta intorno. La Libia appunto, come ben sappiamo, è una piattaforma di lancio dei migranti verso l'Europa e quindi un'ulteriore scomposizione del quadro libico porterebbe a un probabile aumento dei flussi migratori e soprattutto da un punto di vista umanitario porterebbe a un forte peggioramento della condizione dei migranti che provengono dall'Africa subsahariana che attendono in Libia di partire per il continente europeo. L'Italia ovviamente sarebbe in prima fila in tutto questo, ma come abbiamo visto anche Spagna, Malta, Francia, Grecia potrebbero subire ripercussioni di un'improvviso impennata delle partenze. C'è poi da considerare l'aspetto petrolifero. La Libia è il paese africano con le maggiori riserve provate di petrolio, un attore fondamentale per gli equilibri energetici del petrolio, petrolio il cui prezzo sta aumentando in conseguenza della strozzatura dell'export dell'oro nero iraniano dopo le sanzioni approvate e reintrodotte dall'amministrazione Trump, quindi petrolio libico che diventa cruciale nella determinazione degli equilibri dell'oro nero. L'ENI ha interessi in Libia fino ai prossimi decenni, ha importanti giacimenti soprattutto nell'Ovest e nel Sud, quindi è di fondamentale importanza per una delle nostre principali aziende provare a comporre il caos soprattutto nel Sud del paese. Qui si gioca ovviamente la competizione della Francia che sin dal 2011 ha dimostrato di star cercando di recuperare influenza sul Nord Africa, influenza che ha perso con alcune delle primavere arabe, in particolare con quella originaria, ossia quella della Tunisia, il cui dittatore era uno storico cliente dei francesi ma anche del resto dell'Occidente europeo. La Francia sta appunto cercando di recuperare influenza in Libia, è logico che questo vada in parte a danno dell'Italia, in teoria quella della partita libica non sarebbe un gioco a somma zero, la Francia lo ha reso tale dimostrando un disinteresse nei confronti dell'agenda italiana che aveva ricevuto l'aperto sostegno da parte del Dipartimento di Stato americano, Dipartimento di Stato che nella gerarchia delle burocrazie americane non conta più di tanto, però di fatto è uno dei pochissimi attori istituzionali statunitensi a occuparsi della Libia. La Casa Bianca non si occupa, non si interessa della Libia se non in un unico caso, evitare plateali divergenze, plateali litigi fra due importanti alleati europei, la Francia e l'Italia. E' questo il senso del via libera con riserva dato dal Presidente Trump al Premier Conte nel luglio scorso. Trump ha detto a Conte, a noi va bene che l'Italia abbia eserciti una leadership sulla Libia, a patto che questo non crei problemi con la Francia. È ovvio che si tratta di una posizione molto ambigua perché il tentativo italiano di esercitare un'influenza in Libia genera attriti con la Francia che compete per lo stesso ruolo. Ma il messaggio di Trump era non aspettatevi da me, non dalle mie agenzie, che vi dia una patente di leadership sulla Libia. È l'Italia che se la deve conquistare con la propria azione diplomatica, con anche l'individuazione corretta degli attori con cui fare affari e con cui stringere accordi. attori tanto sul campo, quindi le milizie libiche e non tanto e non esclusivamente i politici libici, quanto internazionali. Un attore con cui stringere rapporti e di cui individuare gli interessi è sicuramente il Comando Militare Americano per l'Africa, che svolge un importante ruolo in Libia perché è il principale attore che dà la caccia ai jihadisti, Al-Qaeda, Stato Islamico, Ansar al-Sharia e altri gruppi. È questo il singolo attore americano che più conta nel determinare la postura americana sulla Libia. Ecco che da una corretta identificazione e individuazione di chi conta in Libia e sulla Libia deve partire la necessaria strategia italiana.